bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial oggi realizzeremo insieme un portamonete con clic clac io sto usando questa che poi è base rotonda e con la chiusura con queste perle per quanto riguarda il diametro di questa clic clac è di circa 12 centimetri la potete trovare in qualsiasi punti vendita di mercerie oppure anche su amazon io l'ho presa in merceria qui vicino mio paese poi ci servirà un marca punti l'uncinetto del 3 e mezzo il cordino swan io sto usando questo di questo colore lilla e per quanto riguarda la chiusura che poi cuciremo in questi forellini sto usando il filato trasparente tipo lenza e poi ci serve un metro per quanto riguarda la lavorazione sto facendo una lavorazione a spirale quindi inizieremo da un anello magico e poi andremo avanti con gli aumenti fino a raggiungere il diametro della nostra clic clac e adesso possiamo iniziare con il tutorial con l'uncinetto e il cordino dobbiamo fare un anello magico quindi attorcigliamo il cordino intorno alle dita entro con l'uncinetto pesco il filo lavoro una maglia una catenella che mi blocca il tutto all'interno del nostro anello magico dobbiamo lavorare sei maglie maglie basse questa è la prima una seconda maglia bassa una terza maglia bassa e vado avanti fino a lavorarne sei finite di lavorare le sei maglie basse tiro il filo più corto e chiudo nella prima maglia bassa ad inizio con una maglia bassissima quindi entro con l'uncinetto tiro bene anche questo filo prendo il filo e chiudo il primo giro con una maglia bassissima ci ritroviamo con sei maglie basse il giro numero due dobbiamo lavorare in ogni maglia bassa ne lavoriamo due quindi da sei a fine giro ci troveremo con 12 maglie basse entro nella maglia bassa e lavoro la prima maglia bassa maglia bassa rientro nello stesso punto è una seconda maglia bassa a fianco entro nella maglia bassa e lavoro una terza maglia bassa è una quarta maglia bassa ma da fianco entro lavoro una quinta maglia bassa è una sesta maglia bassa vado avanti in questo modo fino a lavorare 12 maglie basse ho terminato il secondo giro facendo 12 maglie basse ora devo lavorare una maglia bassa e un aumento quindi da 12 ci ritroveremo a fine giro con 18 maglie basse però non chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa ma vado avanti senza chiudere ad aspirare per non far venire la chiusura quindi entro nella maglia bassa a fianco lavoro la prima maglia bassa e la segno così non perdo il mio giro d'inizio ho lavorato una maglia bassa a fianco invece nella stessa maglia di base ne lavoro due e ho fatto il mio primo aumento a fianco lavoro una maglia bassa invece a fianco nel lavoro due dobbiamo andare avanti con questa sequenza una maglia bassa e un aumento fino ad avere un totale di 18 maglie basse ci ritroviamo al termine del giro arrivata al termine del giro e mi ritrovo a lavorare con l'aumento perché ho iniziato con una maglia bassa singola quindi lavoro due maglie basse nella maglia bassa sottostante e mi ritrovo con 18 maglie basse ora invece devo lavorare due maglie basse e un aumento tolgo il segno e lavoro la prima maglia bassa e rimetto il segno a fianco lavoro una seconda maglia bassa e a fianco invece devo lavorare l'aumento quindi questo giro lavoreremo due maglie basse singole e un aumento a fianco una maglia bassa a fianco una seconda maglia bassa e a fianco un aumento quindi due maglie basse nella stessa maglia di base andate avanti e ci troviamo a fine giro mi ritrovo a fine giro con 24 maglie maglie basse come vedete il cerchio inizia a crescere tolgo il segno e a questo giro devo lavorare tre maglie basse e un aumento mi devo ritrovare a fine giro con 30 maglie basse quindi a fianco lavoro la prima maglia bassa e rimetto il segno a fianco lavoro una seconda maglia bassa a fianco una terza maglia bassa e a fianco lavoro l'aumento due maglie basse in nella maglia bassa sottostante quindi devo andare avanti lavorando tre maglie basse e un aumento uno due e tre e a a fianco ne lavoro due devo proseguire questa lavorazione trovandomi a fine giro con 30 maglie alte il giro successivo devo lavorare 30 maglie basse il giro successivo devo lavorare quattro maglie basse singole e un aumento devo andare avanti fino a raggiungere la circonferenza della mia click clac quindi proseguite questa lavorazione io poi vi dico quanti giri ho fatto in tutto sono andata avanti con la lavorazione e alla fine mi ritrovo con 54 maglie basse ho lavorato un totale di 9 giri e se vedete io metto la click clac sul mio cerchio corrisponde quindi non ho fatto altri giri altrimenti poi quando salgo con la lavorazione esce fuori dal bordino quindi sono arrivata 54 maglie basse e mi sono fermata a questo punto devo lavorare 54 maglie basse come si presentano senza fare aumenti quindi tolgo il segno e lavoro le maglie basse in costa retro questo perché per poter far girare bene il nostro borsellino quindi vado nella maglia bassa fianco e lavoro prendendo la costina dietro una maglia bassa e chiudo e segno questa maglia vado a fianco maglia bassa in costa retro a fianco maglia bassa in costa retro e a fianco maglia bassa in costa retro proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro ho terminato la lavorazione di maglie basse in costa retro e questo è il risultato è il come vedete il portamonete gira verso l'interno il punto che ho scelto è un multiplo di due quindi io mi ritrovo con 54 maglie basse e un multiplo di due se casomai voi iniziate con catenelle diverse e non vi ritrovate con il multiplo di due quando fate le maglie basse in costa retro se dovete aggiungere qualche maglia bassa aggiungetele se invece dovete togliere togliere qualche maglia bassa per arrivare al multiplo oppure una maglia bassa togliete quella maglia bassa tolgo il segno vado nella maglia bassa a fianco e lavoro una maglia bassa prendo il filo e nella stessa maglia lavoro una mezza maglia alta e mi segno la maglia bassa quindi la prima maglia salto una maglia di base vado a fianco lavoro maglia maglia bassa filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta salto una vado a fianco maglia bassa filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia maglia alta salto una vado a fianco e lavoro una maglia bassa filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta e proseguo questo fino a terminare il giro ci vediamo al termine del giro alternando maglia bassa e mezza maglia alta nella stessa maglia di base saltando una maglia bassa sono arrivata al termine del giro e non concludo la lavorazione vado direttamente ho tolto il segno sulla maglia bassa e lavoro una maglia bassa quindi questo è il giro numero 2 e una mezza maglia alta dobbiamo ripetere sempre questi questo giro maglia bassa mezza maglia alta sulla maglia bassa sottostante mi segno la maglia bassa vado dove ho la maglia bassa fianco quindi questa è la maglia bassa entro all'interno e lavoro maglia bassa e mezza maglia alta vado qui dove ho la maglia bassa e lavoro di nuovo sulla maglia bassa la maglia bassa entro di nuovo mezza maglia alta a fianco maglia bassa saltando la mezza maglia e mezza maglia alta qui ho la mezza maglia alta vado a fianco a maglia bassa e sulla maglia bassa lavoro la mezza la maglia bassa filo sull'uncinetto e mezza maglia alta proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro ho terminato anche questo giro e ripetiamo questa sequenza maglia bassa e mezza maglia alta fino alla nostra lunghezza qui ho la maglia bassa tolgo il segno quindi da questo punto iniziamo un altro giro dove ho la maglia bassa lavoro maglia bassa e mezza maglia alta sempre nello stesso punto ripetiamo sempre questo motivo fino alla nostra lunghezza mi segno la maglia bassa vado dove ho la maglia bassa quindi salto la mezza maglia alta che questa vado direttamente dove ho la maglia bassa e all'interno lavoro maglia bassa filo sull'uncinetto e mezza maglia alta prendo il filo ho tutte e tre le asole sull'uncinetto e chiudo tutte e tre le asole salto la mezza maglia alta vado a fianco o la maglia bassa e lavoro maglia bassa all'interno maglia bassa e mezza maglia alta è un punto molto semplice ma da un effetto molto bello sono andata avanti con la lavorazione ripetendo il punto per 12 centimetri come vedete questo è l'effetto del punto molto fitto ho tagliato il filo e tolgo il segno e chiudo nella maglia bassa con una maglia bassissima adesso vado a nascondere il filo e poi inseriamo la click clac una volta che ho tagliato il filo e nascosto bene il filo prendo la click clac è la posizione in questo modo quindi faccio passare in questo modo tirando bene e cercando di far capitare nel nello spazio con l'ago prima blocchiamo così non si sposta mentre dobbiamo cucire quindi metto e blocco a questo punto e ne metto un altro da questa parte per bloccare ecco qui tiro bene bene per far coincidere bene con l'ago è il filo trasparente devo entrare vi faccio vedere nel poi man mano con l'ago mi sposto dentro le asoline quindi con l'ago entro dove ho questo buchino e esco da questa parte devo fare delle piccole cuciture entrando da una parte prendendo il filato e uscendo dall'altra parte dove abbiamo il buco bloccando così per tutto il nostro lavoro ecco come si presenta il nostro portamonete molto carino e molto simpatico anche o ad un effetto elegante grazie a la chiusura con le perle questo può essere anche un'idea come regalo per la festa della donna detto ciò il mio tutorial finisce qui se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale o un gruppo facebook che si chiama le creazioni di carola e le amiche di uncinetto se vi va potete entrare farne parte ci vediamo a presto con altri video tutorial grazie per la visione e ciao